Pieno di gente qui! Aia! Scappa! 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 C'è un mezzo cuore! C'è un mezzo cuore! Ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati nella serie Minecraft Meet The Mobs insieme ad... Hitfox! Devi dire... Devi dire... Hitfox! La serie con me sul canale di Hitfox sta continuando. E ora iniziamo con questa. Allora, ci ricordiamo che nella volta scorsa c'eravamo dimenticati due test. La testa di Steve e di Erobrine. Siccome non abbiamo voglia di rifarci quella scena, io le ho prese. Tac! Steve! Ehi razzi! Ed... Erobrine! Erobrine! Allè! Mo! Anche lui come kid! Allora, se tanto mi dà tanto, ora dovremmo trovare la testa dell'ocello e del chicken nella prossima scena. Quindi vieni! Esatto! Quindi si va! Allo c'è un mezzo cuore di un mezzo bellissimo! Mi voleva bene! Vabbè, fai niente! Hai del cibo tu? Sì, ho 14 carote! Anzi, 15! Se vuoi ti do delle bestie! Allora, compriamo il bigliette! Il bigliette! Ma ce ne abbiamo mille di bigliette! Dobbiamo comprarli! Allora, compriamo quelli per... Il Confused Party! Non so che cazzo sia, però sembra molto bello da vedere! Jesus! Sarà mica... Sarà mica 50 sfumature di grigio! Eh, ti pare! Eh, proprio dovrebbe! Andiamo a vedere le tette, Fox! Demo! Aspetta! Tette, tette! Allè! Dove stanno queste tette promesse? Youporn, mod, on, vediamo! Eh, non ci sono tette! Eh! Eccole le tette! Le ho viste! Questo maiale, guarda sotto! È tutto pieno di tette! Vedi? Ah già, ma sei un porco! Eh, lo so! Ma che cazzo hanno sopra la testa? Ragazzi, no! Mostra un po' intorno! Eh, sto vedendo! Ma che cos'hanno sopra la testa? Secondo te è una torcia? Sì, è una torcia! Come si chiamava? Confused Party! Il Parti Confuso! Che cazzo è? È un film, ragazzi! È un film che io non conosco! Dentro i pigmen ci sta l'acqua! Quindi sta attento! Lasciate un bel pollice in su al video se volete vedere il prossimo, ragazzi! Allora, ho trovato la testa del pigmen! 2 a 6! Dentro il pigmen! Quindi abbiamo il pigmen! Ah già! Gli hai bucato il pie! Gli ho bucato il pene! E da lì sono entrati! Pene! Non piede! Olè! Ol' Creeper! O il maio! Ma cosa hai preso? Nel nada del nada! Ma in realtà niente! Se vuoi ti do un po' di legno e tu ci entri nel... Entragli nella stomaco! Magari c'è del nada! Entragli nel culo! Arrivo! Non dire culo! In presenza di notch! Oh! È pieno di Creeper dentro il Creeper! It fucks! Aiuto! It fucks! No! Cosa ha rotto? La te... Madonna! Stava per rompere la testa nel Creeper! Volizionate in to the theater! Aspetta! Non dirmi che sei tornato! No! Ciapa la testa! Ciapa KG! Aspetta! Mezz'ora otto! Eh! Distrugge tutto! Ma perché il Creeper era qua? Dove era? Spaccagli la testa! Spacchiamo! Madonna! Le botte! E non mi da... No! Non cliccare il blocco! No! Eccola qua! La prendo! Spacca quella testa! Ecco! Trova un Creeper! Allora! Passo da qua! Non so! Creeper! Eh sì! C'è del tesorone! Mamma mia! Tesorone! Ecco! Guarda! C'è del zucchero! Cocaina! Is that what I'm supposed to look like? Scrive il Creeper! Eh che cosa? Look like? Spacito in chat! Eh ho visto! Ma non ho capito il senso! Vuol dire? Sì! Vuol dire... E questo è il modo di farmi sembrare? E che cazzo vuol dire? Che gli stiamo entrando dentro e non gli fa piacere? Esatto! Non gli piace! Oh ma ci stavano dei blocchi di ferro in questo Creeper! Serio? Sì! Quali sono? Tappali! Questi qua sono carbone! E forse li ho già presi tutti! A me serve! Apri qua! Apri qua! Apri qua! Apri qua! Cosa? Dove? Aspetta! Basta andare sopra! Egg! Oh! Delle zucche! Pumpkin! Ma chi ha? Però a me serve la redstone! Qua c'era del cibo! Piccolo! Non l'hai preso! Eh no! Non l'ho preso! Però sopra c'è glowstone! Ma aspetta un attimo! Tu hai trovato che cosa? Il ferro! Sì! Eh ma non abbiamo la flinta! Oh! Un blocco di smeraldo sopra il Creeper! Troviamo la flinta! A questo punto! Ah ya! Sto morendo! E qua mi sa! Mi sa qua che muoio! Hai bisogno di cibo? Vuoi essere sfamato? Eh? Vuoi una carota di lion? Bella dura! Dove stai? Dura dura? Ti è! La cosa di un canguro! Te la busto se ti fermi! Dove sei? Eh sono la testa del Creeper! Aspetta! Ora ne fuoriesco! Mi sembra di una testa di Creeper! Mamma mia! Ok vado eh! Ok! Aspetta prendo la mira! Eh sono un belè! Oh! Eh ce la fa! Aspetta! Aspetta questa era! Gravel! Via via che di anzi si sfruttiamo il bug! Ok! Qual è il bug? Finché non trovi flint! Ma non è un bug! È così! Ok allora mentre tu fai ciò! Io vado qua dal maiale che è pieno di ragni! Questo maiale c'ha le pulci! Porco il cazzo! Non ce l'hai un po' di gravel da buttare? No! Ma mi sa che con la 1.8 hanno sistemato! Vabbè ma la deve dare! E se no da dove le trovi le flint! Uh il maiale è pieno di carote! Mamma mia che ricchezze! Ma io non c'ho più spazio! Dammi le carote! Avviva la carota! Vieni mi ad aiutà! Apri un po' il maiale! Il pig l'abbiamo già trovato? Il... No il maiale normale? No il pigman! Non l'ho trovato! Allora abbiamo trovato il maiale! Qua ci deve essere qualcosa! È qua sopra! È qua sopra da qualche parola! Nelle mammelle! Nelle mammelle del maiale! Ma c'è gente dentro il maiale qua! Però... E se ci pensi un attimo! Eh sì c'è gente lì dentro! Fox! È questo il maiale qua c'è dentro qualcuno! Guarda! Ah! It! Ok! Dove sei? Dentro il maiale! Oh Cristo! Eh! C'è... Aiuto! È pieno di gente qui! Aia! Scappa! 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 No! C'è un mezzo cuore! C'è un mezzo cuore! Ti vogliono! Eh! Ce ne tanti! Aiuto! It! Come facciamo? Eh! C'è un mezzo cuore io eh! Forse ora possiamo rintanarci dentro il maiale da cui loro sono usciti! Eh! È una buona idea no? Aspetta! Aspetta! Devo recuperare! It! C'è un mezzo cuore! Dillo a me! Io rientro! No! C'è ancora gente! No! Signor scheletro! Bastardo! Smettila! Oh oh! Agbo la whore! Aia! Testa del maiale! Testa del maiale! Ok! Io due cuori e mezzo! Mi sto prendendo! Io sto malissimo! Sto morendo! Dove stai? Ti vedo! Ti vedo! Sta attento! Esplodere qua! Ah! Bastardo di un ragno di merda! Ti ho ucciso! Sì! Mi ha preso! Mi ha! Mi ha! Mi ha avuto! Mi tipizzo da te! Vai! 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 Quello c'ha! Oh ya! Si! Ai 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 ai! Che cazzo c'ha questo? Un fiore in mano! Si crede di essere un hippie! Anche questo ha un fiore in mano! Ma che cazzo c'hanno? Io voglio far esplodere tutto! Lo so! Abbi pazienza! Ma che cazzo? Smettetela di fare gli omosessuali questo c'è un blocco rosa già in mano e basta Zombie di tutte le sessualità. Mi sono rotto le balle. Vado a prendere l'aresta. Bravo Guarda ci splodere tutto. Ma il maiale è squartato per colpa tua o che cazzo? Ah il creeper mio giusto Questo scheletro c'ha un arco incantato niente di meno Ma tu le hai fatte le ceste figue? Oh sì le avevi fatte. Le che? Le ceste. Le ceste Sì, a casa ci stanno. Non so se abbiamo della redstone però Zombi di merda Eh, eat fox. Tu non ci sei lo so. Ma io ho bisogno d'aiuto. Dove stai? Io voglio trovare Eat fox No, niente. Non ci sono per nessuno Aia Mi sparano Frego. Io qua devo fare il boom. Bastardo Boom, baby Scappa scappa. Non sentirò un boato assurdo, eh. Eccolo Vedi? Mi aspettavo di più. Mi devi venire ad aiutare assolutamente dal maiale perché sto avendo un casino di problemi. Ok, 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 eccolo. Vai, vai Porco di un... ci penso io Oh Cristo, quello c'ha l'armatura Fox, c'ha l'armatura. Jesus Christ. Vai, ce n'è un altro Ce l'ho it. Bravo, basta. Prendi un girasole. No, dove? Cristo. La spingo, la spingo Che? Che? Allora Mo, se le mie indizi sono giusti, c'era scritto di mettere un girasole qui Eh, ce l'ho. Io ce l'ho pure, lo metto Ok, ok. Dove? E voi Ma non si può più perché è tutto rotto Per dove? Forse, forse volevo... Aspetta Eh? È tutto rotto, Fox Spacca, spacca Ma volevo vedere... Aspetta, forse è qua. Fermo, fermo, fermo Ma non fa un cazzo Perché abbiamo rotto tutto. Ma vaffanculo Oh, protestiamo. Andiamo via Ma se va più alto? In alto? Non c'è niente sopra. No, appena, guarda cosa è quello Ah, niente. È la torcia, eh Allora, abbiamo preso il maiale, il creeper No, il maiale no. Il maiale ci manca, Fox Guarda! Chi c'è? C'è la strega Ok, allora Ci manca. La mushroom ce l'abbiamo, giusto? Sì. Lo scheletro manca Lo scheletro è qua E andiamo a prenderlo subito È il witter skeleton, questo Ah, giusto. Questo ha la testa sicuramente Ci vai te? Ti do i blocchi? Sì, sparami nel culo. Aspetta Ce li hai già il blocchi? Ok, allora No, non ce li ho più. Dammeli Metti, butto qua, eh No, qua dove sono io Eh, ra, tieni Vabbè, prendi tutto Allora, io butto un po' di roba da qua Perché sono pieno di merda Questi via, questi via, questi via Che hai trovato? No, niente Ci va a ridere Come, come l'hai detto Allora, io sto andando dal witter Wither, wither Secondo me c'è la testa Se c'è la testa, vieni ovviamente Anzi, vieni subito Te lo ordino A cosa hai trovato? Un pene gigante dentro il witter Ci sarà la testa Di wither Secondo me Di bieber Guarda, adesso c'è Qua dentro la testa No, invece no Però c'è uno spawn di schelet Quindi non c'era niente Dove? E metterlo esattamente qui a fianco Perché così ce ne possiamo tornare Ma sei sicuro? Sì, vai Sì, 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 hai ragione Hai ragione, hai ragione Allora, quindi Noi ora andiamo a mettere queste due teste Che sono quelle che abbiamo trovato in questo giro Le andiamo a piazzare qui Al loro posto E vediamo se ce ne manca qualcuna Perché, allora Dunque, noi abbiamo il pigman Zombie pigman e il creeper Quindi, zombie pigman E il creeper Ah, a conti fatti Secondo me ci mancava lo scheletro Perché, vedi, sta qua Eh, sì Proprio a fianco Però qui non ci manca ancora quella dell'iniziale La zia Vabbè, al massimo la zia la troveremo in qualche maniera alla fine Dai, non è un problema Sì, sì, infatti Ok, per questa volta Però ragazzi Fate finta che c'è qualcosa C'è Sì, c'è Dai, c'è qualcosa Ci metto qualcosa per segnare Ah, via, via Via, ci metto io qualcosa Sì Vabbè Bello Mi piace Eh, c'è anche il maiale Che lì è contento Qua è cresciuto pure il grano Perfetto Perfetto Pure questo Ci metterei anche due torcine qua E direi che per questa volta è tutto ragazzi Sì, è tutto Adesso ragazzi Un'ultima cosa vi chiedo io Nel prossimo episodio Cioè adesso nei commenti Dovete scrivere Vieni con me Lion Quale Perché lasceremo scegliere a voi Quale di queste scene visitate Giusto, giusto Per questa volta comunque è tutto Quindi noi vi auguriamo una buona giornata E Lion e Fox Out Mi saluto Ciao 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 Grazie a tutti